Qualcosa nell'aria che ci voglia cantare, dimentica tutto e provalo all'aria anche tu. Una notte che si fa in 5 iniziate il 21 e che si concluderà a Cesena domenica 24 luglio. E' quella dedicata liscia in tutta la Romagna e compice l'estate ovviamente la Riviera, da Comacchio fino a Cattolica. Sabato 23 si balla Rimini, special guest il musicista Goran Bregovic con le sue versioni gipsi dei classici del Liscio e Romagna Mia, suonata assieme all'orchestra Mirko Casadei e l'orchestra di Moreno Il Biondo e Extra Liscio. Raccontiamo un evento unico e straordinario che avviene per la prima volta nel nostro territorio romagnolo che è quello dell'incontro della tradizione del folklore del romagnolo con i nuovi suoni delle nuove generazioni musicali insieme a una reinterpretazione del nostro Liscio da una guest star internazionale come Goran Bregovic. Quindi sabato 23 luglio a Rimi in Piazzale Fellini ci sarà una grande serata che vede insieme l'orchestra di Mirko Casadei con ospiti come Cisco e Icora Canè, vede l'orchestra di Moreno Il Biondo con Mirko Mariani e l'extra Liscio come ospiti, fare questa grande reinterpretazione del Liscio in chiave attuale e portarlo alle nuove generazioni e addirittura esportarlo in chiave internazionale con la presenza di Bregovic. Ma questa non vuole essere una celebrazione della nostra musica popolare del Liscio, bensì un rilancio che contamina ovviamente la musica classica secondo Casadei, la famiglia Casadei, l'orchestra Casadei ma anche le nuove band che hanno rinterpretato la nostra musica popolare. Ma io sono convinto che anche per i più giovani possa essere bello vivere dei momenti del nostro Liscio, del nostro folk, della musica tradizionale romagnola, unita poi ad artisti straordinari come Goran Bregovic, come Mirko Casadei. Insomma, una rievocazione del Liscio però in chiave moderna che io penso sarà davvero di grande spessore.